Posso fare una domanda sulla manifestazione? Siete del Polesine? No, da Mila. Da Mila, provincia di Venezia. Perché? Perché stiamo contro il carbone e non vogliamo che venga fatta la centrale. Vi sembra riuscita? Tanta gente, tantissima. Siete contenti? Sì. Grazie. Adesso vediamo qua chi c'è. Mi fai vedere il tuo cartello? Allora, non siamo così cattivi da metterci il carbone. Ciao. Da dove stai arrivando? Da Porto Viro. Ah, sei qui del Polesine. Ti sembra riuscita la manifestazione di oggi? Alla fine sì, si poteva fare meglio, però ogni sforzo è apprezzabile. Allora, cosa pensi di questa possibilità di riconvertire a carbone da centrale? Mi sembra una cosa meno intelligente da fare, anche una cosa che non è molto in linea con il futuro. Parlare di carbone nel 2010 mi sembra una cosa un po' stupida. Eppure l'Enel tenta questa strada? Non so, penso che ci siano degli interessi che valeranno più per le loro tasche che per la nostra salute e per i nostri interessi stessi. perché l'occupazione non so quanto sarà. In effetti... Si tenta sempre di contrapporre occupazione ad ambiente o salute. Si può riconoscere questa contraddizione? Si può riconoscere anche sul fatto della mancanza di lavoro e questo che anche tanta gente del Polesine effettivamente viene tentata dal fatto di riconvertire, di far funzionare in ogni caso, via centrali, però penso che ci siano altre strade che si possano percorrere. Grazie mille. Ciao.